La 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 la, questa setta, tutti a casa, l'Italia se ne va a casa, non c'è posto al Maracanà. Canzone Maracanà di Amy Schilla, vediamo come suonarla al pianoforte o al piano elettrico. È molto semplice, è fatta da... Ecco qua, quattro accordi. Dunque, si minore, sa maggiore settima, la fa die di s minore, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la... ed ecco qui ragazzi e poi inizia la leppata no tarra tarra tirata 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 para pari para pirata la 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 questa sera c'è un delirio al maracana un sospiro gli occhi chiusi esogiano tra i tamburi e i colori della città un po' di improvvisazione cina perché no? quando si improvvisa in genere se gli accordi sono troppo veloci tendo ad allargarli a farli diventare invece che due quarti a quattro quarti quindi il primo dura di più i due di mezzo sol maggiore settima eccolo qui e la li faccio durare soltanto due cioè io li faccio durare mi schifo o chi ha composto la canzone invece l'altro è più lungo fa 10 minore dura una battuta intera e anche il si minore dura una battuta quindi concludiamo questa canzone che fa sempre così grosso modo dai è un rap poi tutto il ritmo no? molto semplice no? e il testo questa sera e il ritmo fa questa sera torno a tutti i nostri alcuni la 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 e A presto A presto A presto A presto A presto